C'è un termine con cui faccio francamente fatica a confrontarmi e questo termine è un po' la sensazione che si prova quando si è innamorati, si sentono le farfalle nello stomaco, magari i ragazzi più giovani che ci vedono dall'assù lo hanno provato o lo stanno provando, si sente il cuore che palpita e poi si suda perché magari non si è corrisposti dalla persona che si ama. Si sente una specie di odi e tamo simultaneo, qualcosa che ci piace ma che ci fa anche molto arrabbiare che non riusciamo ad afferrare. Ebbene a me capita la stessa cosa quando mi metto quotidianamente di fronte a questa parola e la parola è verità. caspita, una parola che fa tremare i polsi, soprattutto per chi fa informazione, soprattutto per chi ha fatto della verità, della sfida della verità, il proprio lavoro. La verità è il luogo della complessità. Dentro la verità noi troviamo le risposte a questa complessità. Ma certo bisogna afferrarla e la verità ha messo in crisi tantissime persone nel corso della storia. Pensate per esempio a Ponzio Pilato, di fronte a Gesù, in quel processo incredibile. E lui dice, la verità, cos'è la verità? Perché chiaramente non la sa più afferrare, perché gli elementi sul tavolo sono talmente complessi che Pilato non sa più dove girarsi. Se ne lava le mani. Pilato non cerca la verità perché non la può trovare. E la verità sfida tutti noi. Soprattutto in questo tempo, guardate. Mi pare, e non so cosa ne pensiate, che questo sia un tempo in cui abbiamo sostituito il pensiero alla forza dell'immagine, alla forza del video. Ve lo dice uno che con le immagini ci lavora. Quando la forza dell'immagine diventa pervasiva, talmente tanto da farci vivere in un var perenne, in uno slow motion continuo, in un reverse angle che ci deve far vedere tutto di un fatto, e perché solo quella prova, solo quella prova video o fotografica, può ridonarci la realtà, può ridonarci la verità, allora compiamo un piccolo errore. Per metà è vero, ma manca l'altra metà. Adesso ve lo spiego cos'è l'altra metà. E per spiegarvelo, voglio partire da questa foto. Forse più agé qua, in questo teatro, la ricorderanno. Eccola qui. Questo cormorano, pubblicato in prima pagina sul Washington Post, il 26 gennaio del 1991. È un cormorano con le penne inzuppate di petrolio. E allora, vi ricordate, si disse, Saddam ha aperto i pozzi e oltre al genocidio ha creato un'enorme catastrofe ambientale. E questo cormorano è un'immagine vera o è un'immagine falsa? È un'immagine vera. Si tratta di un cormorano. È il contesto che è falso. Un'immagine vera, se il contesto è falso, può originare una notizia falsa. E chi ce l'ha spiegato? Che questo cormorano era vero, ma la notizia e il contesto era falso? Non il giornalismo. Ce l'hanno spiegato un gruppo di ornitologi francesi, pensate, che hanno guardato queste immagini e hanno detto, ma no, si tratta di un baby cormorano e questo baby cormorano non può nidificare in quel periodo lì, lungo le coste del golfo. E infatti, questo è un cormorano che risale alla guerra Iran-Iraq del 1983. Vedete quanto è complessa la ricerca della verità. E allora io mi sono chiesto, a marzo, quando per 40 giorni sono stato a Kiev, a raccontare la prima parte del conflitto, è possibile oggi un cormorano bis? Cioè con tutta la tecnologia che abbiamo, con tutta questa informazione, anche visiva, che abbiamo, è possibile incappare nella mancanza di contesto? Perché sapete, quando non c'è contestualizzazione, quando si inquinano i pozzi della contestualizzazione, la verità è irraggiungibile. E l'ho provato sulla mia pelle, sabato 12 marzo, alle 4 del pomeriggio, insieme a due fotografi, entriamo dentro questa località, Irpin, forse ve la ricorderete, questa località con il ponte crollato, da cui scappavano i profughi per raggiungere la salvezza a Kiev. Ed entriamo lì, intorno alle 4 del pomeriggio, e improvvisamente, nella piazza centrale bombardata, assisto a questa scena. Queste sono immagini che ho girato io, col mio telefonino, con il mio iPhone. Di primo acchito ho pensato, ho uno scoop in mano, ho finalmente la possibilità di riprendere come vengono trattati i prigionieri russi, perché si tratta di tre uomini, lo vedete, legati con il cellofan, a un palo, meno 10 gradi, denudati dalla vita in giù, privati di ogni dignità, con una patata in bocca perché non potessero parlare con i giornalisti. Se non avesse prevalso dentro di me l'urgenza del contesto, io avrei preso quell'immagine così come mi appariva dei militari ucraini che col Kalashnikov puntato tenevano le vite di tre persone in queste condizioni. Allora ho chiesto, ho chiesto al militare con il Kalashnikov di raccontarmi chi fossero e lui mi ha risposto è la peggior feccia ucraina. E allora ho capito che non mi trovavo di fronte a dei prigionieri russi, ma certamente di fronte a dei prigionieri ucraini. E chi erano questi prigionieri ucraini? Ladri, sciacalli, che si erano introdotti nelle case di Irpine e le avevano saccheggiate mentre le persone scappavano. E allora ho chiesto, e questa è la punizione che combinate ai ladri? Sì. Uno di loro, improvvisamente, ha preso un taglierino e ha tagliato il cellofan. Ha preso queste tre persone, le ha fatte inginocchiare, le ha fatte mettere con le mani dietro la nuca e ha spianato il suo Kalashnikov contro di loro. In quel momento io ho pensato che di fronte a quella scena la mia emotività era ben più mossa rispetto addirittura alle scene che avevo visto il giorno prima con i cadaveri di una famiglia per strada che cercava la salvezza e che la pietà di qualcuno aveva coperto con un lenzuolo. E perché mi aveva mosso così tanto questa immagine? Ma perché dentro di loro c'era ancora la vita. Perché queste tre persone erano tre persone ancora vive. E allora ho chiesto al militare gli sparerete? E lui mi ha risposto queste uniche due parole purtroppo no. Capite quanto è complesso? Dentro queste due parole purtroppo no ballano le vite di tre persone. Ci sono domande complesse che ho incontrato nel mio lavoro e che richiedono risposte complesse e a cui anche il giornalismo ha dato risposte semplici. Come si fa a fermare per esempio la crisi umanitaria di persone che arrivano verso l'Europa? Domanda complessa risposta semplice blocco navale. Come si fa a dire a una donna o una ragazza che ritorna a casa in periferia luna di notte e che ha paura è che questa paura è una paura irrazionale. Una domanda complessa la risposta i reati sono in calo. Vedete? La complessità è multiforme e dentro la complessità dobbiamo saperci stare e ci sono ho tentato di starci soprattutto quando ho raccontato qui da Cremona le vostre terapie intensive. Era lunedì 2 marzo 2020 e la domanda complessa era è o no poco più di un'influenza al covid? E ho cercato di rispondere con la forza delle immagini sì ma dando anche un contesto è durato il tempo di un amen perché subito dopo sono arrivate ve lo ricordate le bare dentro i camion militari di Bergamo e subito dopo è arrivato il dubbio irrazionale e guardate contro il dubbio irrazionale che là dentro non c'erano dei cadaveri non si può fare assolutamente nulla la ragione non può non riesce il giornalismo trova un ostacolo perché il dubbio razionale è un booster contro la verità e quando subentra il dubbio razionale quando ciascuno di noi si rinchiude dentro se stesso si fa arriccio io lo chiamo il rachitismo della verità quando non siamo più in grado di guardarla negli occhi la verità di accettarla quando le paure subentrano e sono più forti e come possiamo sciogliere queste immagini in un concetto di verità perché l'errore che abbiamo fatto tutti noi è quello di sostituire l'eikos cioè ciò che si vede la figura l'immagine con l'eidos ovvero l'idea che noi ci facciamo di quell'immagine e quando arriva questa sostituzione è finita allora concludendo che cosa può fare il giornalismo adesso vi ho fatto un po' la diagnosi viva il giornalismo ma abbasso il giornalismo quando il giornalismo non è fatto tenendo conto del contesto allora vi lascio cinque parole che per me sono state fondamentali la prima di queste cinque parole è la parola suola delle scarpe torniamo a consumare la suola delle scarpe alziamo i nostri culi di pietra dalle redazioni torniamo a stare in mezzo alle persone torniamo a stare alla stessa altezza delle loro storie e torniamo soprattutto perché perché altrimenti tutti quelli che noi andiamo a raccontare la politica in primis che cosa fa usa i social per comunicare direttamente le loro tribù e si sottrae alle domande del giornalismo e il giornalismo che fa se sta in redazione non può fare le domande prende quelle dichiarazioni le mette in pagina nei propri telegiornali e le ridà al pubblico così come sono senza un'interlocuzione senza interrogarle tornare a consumare la suola delle scarpe lo dico a tutti noi e chiedo anche a tutti voi di pretenderlo dal giornalismo la seconda parola è relazione non è una parola che riguarda solo il giornalismo ma viva Dio se non entriamo in relazione con le persone che raccontiamo se non stiamo alla stessa altezza del loro dolore dico sempre non troppo in alto per non essere pietistici ma nemmeno troppo in basso per non subire noi per primi quello stesso dolore no alla stessa altezza guardandoli negli occhi cercando di stare dentro le loro storie il mio vecchio parroco quando avevo 16 anni mi diceva Alessio fatti dentro fatti dentro nella vita mordila stai all'altezza delle storie che racconti ecco recuperare la relazione recuperare questo contesto è fondamentale e c'è un'altra parola che mi sta molto a cuore è appartenenza voi direte cosa c'entra col giornalismo l'appartenenza no c'entra c'entra come sapete qual è l'etimologia di appartenenza io sono andato a cercarla perché mi sono interrogato su questo e deriva da ad che è qualcosa che va verso qualcuno e pertineo e sapete pertineo cosa significa? significa mi riguardi se mi appartieni mi riguardi e se ti appartengo io ti riguardo e questo c'è nella relazione giornalistica tra il giornalista e la sua fonte tra il giornalista e le storie che racconta e pensate quanto è bello questo termine riguardarsi cioè non guardarsi un'unica volta non è un'azione che si esaurisce in un tempo limitato è un'azione continua è continuare dieci cento mille volte a guardare ancora le cose a entrare dentro nella sostanza nel cuore dei fatti che raccontiamo per cercare di sciogliere la complessità di quei fatti la quarta parola è semplicità vi sembrerà contraddittoria con il tema della complessità invece non lo è Brecht diceva la semplicità è difficile a farsi e a me piace questa idea artigianale della semplicità la semplicità è un bisturi immaginatevela così come un bisturi che taglia le facce complesse di un prisma e parcellizzando quella complessità la spiega l'ultima parola ve la racconto con questa fotografia non è questa è l'ultima fotografia ed è questa qua questo è Geppetto di fronte a Pinocchio nel film di Matteo Garrone Pinocchio che è nato al cinema qualche anno fa ebbene è una scena fondamentale per il giornalismo seguitemi Geppetto scolpisce un pezzo di legno in forme e crede che da quel pezzo di legno nasca una vita nasca un bambino e allora inizia a scolpire piano piano togliendo scolpendo escono le clavicole e poi le spalle e poi viva Dio esce il collo e poi la testa le orecchie questo naso questo meraviglioso naso di Pinocchio e improvvisamente scalpellando cioè togliendo ed è questa la parola che vi consegno togliendo da forma e dando forma si accorge improvvisamente che nel petto di Pinocchio inizia a battere qualcosa qualcosa che ha un alito di vita qualcosa che non è più un pezzo di legno in forma ma è un essere umano e quel cuore che batte gli fa paura lui avvicina l'orecchio e sente questo cuore e indietreggia e poi allora gli dice no allora devi parlarmi devi dirmi se mi sei figlio e gli dice di babbo la parola più bella mamma babbo e Pinocchio dice babbo e Geppetto indietreggia ancora perché quello che ha creato ormai vive di vita propria perché è conscio di avere un figlio ed esce fuori in mezzo al cortile in mezzo alla notte e grida mi è stato dato un figlio e la stessa cosa succede a noi a noi col giornalismo dove la materia informe è quella dalla quale dobbiamo togliere togliere la muffa togliere i sostrati togliere la polvere per far vivere il cuore e una volta tolto e fatto vivere tutto questo l'inchiesta l'inchiesta giornalistica cammina con le proprie gambe e arriva a voi che l'accogliete dalle vostre case dai vostri divani leggendo la mattina i giornali e quindi la paternità non biologica che è stata mia come giornalista diventa anche vostra diventa vostra perché vi appartiene quella cosa lì e quella paternità e quella maternità è qualcosa che riguarda tutti noi se l'informazione è davvero un bene e viva Dio se ciascuno di voi oltre a noi può intestarsi un essere padre e un essere madre dell'informazione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti